Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi in questo nuovo video promozionale vi spiego Games Go, come avete letto dal titolo, questo Games Go Pro vi aiuta a risparmiare sulle piattaforme Netflix, Disney, Amazon, Spotify e Youtube. Quindi in questo caso io non ci credevo a questa piattaforma, mi avevano contattato tanto per sponsorizzare, visto che non ci credevo ho speso 3,30€ per Netflix e me l'hanno dato. Questo è il mio account password e questo è il sito Games Go Pro, vado su abbonamento, come puoi vedere qui c'è il mio abbonamento, l'ho iniziato tipo 4-5 giorni fa e ti danno così un account e la password che sarebbe il codice. Tu metti su mostra e accedi con questa password. Ovviamente in descrizione vi ho lasciato un link che vi porterà sulla pagina di questo Games Go Pro e sotto a quel link c'è anche lo sconto del 5% su Netflix e il 2% di sconto sulle altre piattaforme come Spotify, Youtube, Amazon e Disney+. Quindi come puoi vedere qua sotto ci sono 5 profili, quindi è un account condiviso e mi hanno chiesto di cliccare sul mio secondo profilo, quindi non posso cliccare gli altri profili delle altre persone. Quindi sono account condivisi, quindi invece di spendere 17-18€ speso solamente 3,30€ e mi hanno dato l'account e la passo. Io adesso metto questo email, come puoi vedere, questo è l'email e faccio accedi. Questo è Netflix, Netflix che mi hanno dato. Quindi te lo consiglio veramente. Come puoi vedere se vai su Games Go, qui ci sono veramente tantissimi utenti che lo usano. Netflix 3,87€, ma io l'ho preso sui 3,37€. Spotify 3,33€, 2,81€. Disney+, 2,08€. Tutti account condivisi. E poi c'è anche il VIP, perché VIP può prendere Prime e altre piattaforme. Ma anche Office 365, quello di Office per PowerPoint, Word, Excel. Quindi, come puoi vedere qui c'è Netflix prezzo. Ovviamente un mese 17,99$, un mese 3,87€. Centesimi, 3 mesi 53,11$ e 27 centesimi. Io l'ho comprato questo qua del primo mese. Mi hanno dato così l'abbonamento sul mio account, come avete visto. Clicco su abbonamento. Tu ti fai l'account. Metti anche il codice per lo sconto. E ti daranno così l'account, il codice. E accetti con quell'account. Basta, sulla televisione, la stessa cosa. Metti questo account. Vai su Mostra. Prendi la tua password. La metti sull'account. Accedi. E hai fatto. Hai Netflix per un mese. Se vuoi quello da 3 mesi, 12 mesi, 2 anni. Vai pure. Io te lo consiglio. Veramente molto comodo. Se mi scade questo mese, io lo rinnovo. E forse mi prendo anche Disney Plus, che sta a 2 euro e 8 centesimi. Come ho detto all'inizio, io non ci credevo. Però ho speso 3 dollari e 87 centesimi. L'ho comprato e me l'hanno dato. E account, codice, in questi giorni sto usando Netflix. E sto guardando quello che voglio. E qui per ogni raccomandazione ti danno più 10 giorni. Quindi se lo condividi con una persona, la persona fa l'account. Se lo compra, a te daranno altri 10 giorni che li aggiungeranno qua. Ok? E poi qua sotto ti dirà di cliccare il tuo profilo. Mi raccomando, non cliccare gli altri profili. Perché è veramente mancanza di privacy. Puoi mai cliccare i profili delle altre persone. Quindi se il video ti è stato utilissimo. Se ti è stato veramente comodo questo video. Per risparmiare un po' sulle piattaforme. Io ti consiglio veramente di cliccare su quel link. C'è anche il codice sconto. Così risparmi anche su Netflix e sulle altre piattaforme. E niente. Grazie a tutti per questa visione. Se hai problemi, commenta. Quindi se questo video ti è stato utilissimo. Ci vediamo ad un prossimo video. Forse promozionato o tutorial. Vedremo. Ciao.